Per la puntata di oggi nessuna birra da degustare ma volevo fare un piccolo approfondimento in particolare su tutte le sigle e gli acronimi che vengono utilizzati nel mondo della birra sia birra artigianale sia anche birre industriali e poi ovviamente anche nella birra fatta in casa. Stavo cercando tra i contenitori di luppolo eccetera alcune foto da fare per far vedere alcune di queste sigle e siccome mi è appena arrivato un pacco da un noto distributore di materie prime per l'home brewing ho pensato di fare un piccolo quiz, memoria forse dei vecchi tempi in cui nelle puntate di un famoso cartone animato veniva chiesto di indovinare il pokemon e poi è svelato alla fine della puntata e allora ho pensato visto che appunto stavo cercando le buste di luppolo per fare le foto sull'appunto uno di queste sigle e altre cose l'idea del quiz è vi faccio vedere ciò che è appena arrivato, faccio una sorta di unboxing anche se mi vergogno dire questa cosa da youtuber quindicenne e se volete la fine potete provare a indovinare appunto che birra dovrò provare a brassare con queste materie prime questo è il lievito, la prima cosa che c'è, adesso vi faccio una foto è un Seyfail S33 ma appunto può dire poco ecco, questo è il primo blocco di luppoli è un Allertow Tradition, una cultivar europea stavo prendendo proprio questa scatola per fotografare la scritta con gli alfacidi perché mi serve appunto per questo video e da lì mi è venuta l'idea di fare il video quiz poi cosa abbiamo? vabbè, lo iodio nuovo ma questo non c'entra niente ah ecco, ok, un sacchettino di buccia d'arancia amara poi questa mi servirà anche per un'altra ricetta ma è avena in fiocchi e quindi può già iniziare a capirsi cosa sarà la birra e vabbè, il grosso che abbiamo è frumento in fiocchi e vabbè, un po' di malto pilsner quindi, malto pilsner, le quantità adesso, non fateci caso, io faccio in biab, nel sacco su 10 litri quindi le quantità adesso, soprattutto della avena, sono un po' sfalsate ma perché mi servono per un'altra birra comunque abbiamo malto pilsner, frumento in fiocchi, quindi non maltato un pochino di avena, molto meno di questo sacchettino, me ne servirà ovviamente e un pochino di arancia, un lievito per alte fermentazioni e un solo tipo di luppolo ed è un luppolo, diciamo europeo, un luppolo continentale principalmente il luppolo da amaro vediamo un po' a fine video la soluzione di questo mini quiz come dicevo, la puntata era concentrata su tutte le informazioni, le sigle che troviamo gli acronimi, che troviamo sulle etichette perché siamo appassionati di birra, quindi ci piacciono tantissimo le etichette con tantissime informazioni anche perché siamo dei consumatori attenti, ovviamente, per quanto riguarda almeno il mondo birra ma appunto cosa sono tutte queste sigle? Vorrei provare a fare un piccolo riassuntone la prima, la quella più nota e facile da riconoscere è sicuramente il volume alcolico può essere indicato come percentuale o percentuale e vol, appunto per indicare il volume alcolico a volte indicata anche come ABV, che è sempre un acronimo che sta a indicare il volume alcolico in percentuale esprime appunto il numero di parti in volume di alcol sul volume totale ossia una triple da 8,5 gradi indica che contiene 8,5 volumi di alcol su 100 volumi totali una birra quindi da 10 gradi significa che fatto 100 il volume totale in 100 grammi di birra sono 10 gradi, 10 di questi grammi sono di alcol etilico, di etanolo i riassunti 90, acqua, orzo, malto d'orzo, frumento, quello che ci sarà poi all'interno della birra altra sigla che si può vedere spesso è la EBC, European Brewers Convention è una scala colorimetrica, quindi indica il colore del malto e anche poi del mosto ovviamente e è praticamente poi molto molto vicino al colore che avrà il prodotto finito quindi la birra a fine fermentazione poi ovviamente alcune birre invecchiando possono cambiare molto il proprio colore però tendenzialmente posso utilizzare la scala EBC sia per misurare il colore del malto sia per misurare il colore del mosto quando ovviamente utilizzo più di un tipo diverso di malto più questo numero è basso, più questo colore è chiaro e più è alto ovviamente più è scuro giusto per fare un piccolo esempio una Pils può avere una EBC solitamente compresa tra 4 e 8 diciamo generalmente sotto i 10 ecco mentre per esempio una Stout può arrivare tranquillamente ad avere 100 come valore quindi ovviamente in mezzo ci sono poi tutte le scale è facile da misurare comunque a livello approssimativo con una scala appunto una sorta di riferimento, un pantone diciamo dei colori delle birre può essere ovviamente misurata a livello di eventi analitico con delle spettro... facendo una spettroscopia in America, negli Stati Uniti non viene utilizzata la EBC ma la SRM che significa Standard Reference Method funziona allo stesso modo, è semplicemente tarata su valori diversi un po' come punto di gradi Celsius, Fahrenheit e così via altra sigla ricorrente è quella di IBU la International Bitterness Unit un po' forse anche alla moda delle birre ultraluppolate è appunto diventata abbastanza famosa e si trova a volte scritta questa sigla e questo valore si trova riportato sulle etichette di molte birre in particolare ovviamente le birre diciamo anglosassoni, americane e così via IBU sta appunto per International Bitterness Unit e corrisponde quindi a una scala per misurare l'amarezza di una birra è importante precisare come viene calcolata questa scala come viene calcolato il valore di IBU perché si misura una delle componenti che c'è all'interno dei luppoli che è l'umulone o per essere precisi l'isomulone che è semplicemente la molecola praticamente isomerizzata quindi viene fatta una modifica a livello della geometria tridimensionale di questa molecola comunque misurando l'isomulone noi abbiamo idea di quanto mara sia questa birra il valore è molto comodo perché basta appunto misurare a livello analitico quanto umulone c'è, isomulone per essere precisi in questa birra o si può ricavare anche da altri valori però appunto ci sono due limiti principali il primo importantissimo è che noi misuriamo solo l'isomulone che è una delle componenti che dà l'amaro della birra sicuramente quella più importante ma non è l'unica però è abbastanza precisa come misura il secondo limite principale dell'utilizzo degli IBU è che noi abbiamo una misura solo e soltanto di questa molecola di questa componente un po' come la scala Scoville per la piccantezza che misura solo la capsaicina e non tutto il resto e quindi noi misuriamo solo l'isomulone e non teniamo conto per esempio di tutte le altre componenti che ci sono all'interno della birra e che nella nostra bocca possono andare a bilanciare l'amaro tanto malto, tanti zuccheri non fermentescibili tante altre cose possono bilanciare l'amaro della birra quindi a volte è più corretto parlare di praticamente amarezza e amarezza apparente o comunque come questo amaro viene poi mediato all'interno della nostra bocca da tutte le altre componenti però in ogni caso l'IBU è una misura semplice da ottenere e ci dà già a grandi linee idea di che cosa staremo per bere a livello pratico i IBU sono calcolati tecnicamente si può calcolare con un'analisi chimica si può utilizzare per esempio l'HPLC che è una tecnica per isolare le diverse componenti all'interno di un composto il problema è che è un meccanismo piuttosto dispendioso sia appunto di tempo sia ovviamente a livello proprio economico calcolare per ogni cotta, per ogni batch fare una HPLC o una spettroscopia che è quello che si sceglie di effettuare quindi quello che si fa è ricavare dai valori di alfa acidi presenti nei luppoli perché ogni produttore quando acquista al luppolo il produttore, se è un produttore serio fornisce il valore di alfa acidi poi vedremo cosa sono della propria cultivar di luppolo di quel raccolto di quegli anni perché ovviamente è un valore che può cambiare in un certo range dipendente appunto dalla varietà dalla stagione, dall'umidità da come è andato il raccolto eccetera eccetera e quindi da quel valore si può poi ricavare la quantità di ibu però appunto è calcolato a livello solo teorico proprio perché è piuttosto costoso poi effettuare un'analisi chimica di questo tipo ultima precisazione visto che adesso vanno di moda o comunque c'è stato un periodo in cui sono andate di moda le birre lupolate c'era un po' una gara da parte dei produttori un po' più geek a chi ce l'avesse più amara la propria birra è importante precisare che i nostri recettori della bocca hanno un tasso di saturazione quindi dopo un certo livello gli ibu non li sentiamo più quindi sì è utile magari a livello di marketing fare a gara un po' chi ce l'ha più lungo o chi scrive un numero più alto sulla scala degli ibu poi in bocca insomma può essere che dopo un certo livello non ce ne accorgiamo più della differenza legati agli ibu ci sono quindi gli alfa acidi che appunto come dicevo prima sono le composte sono gli acidi carbossilici che determinano l'amarezza di una birra i più importanti sono ovviamente l'umulone che è quello che quantitativamente è presente in maggiore quantità appunto all'interno del fiore e del lupolo ci sono poi altri composti come me li sono scritti adumulone, cumulone, postumulone, preumulone sono tutti lo stesso suffisso perché in chimica molecole dello stesso gruppo con proprietà simili tendono ad avere lo stesso suffisso ovviamente il più importante è l'umulone la cosa interessante è che il potere amaricante è dato più che altro dal loro isomero quindi ci sono enzimi che isomerizzano quindi modificano la struttura di questa molecola e quando viene isomerizzato questa molecola diventa riconoscibile dai nostri recettori all'interno della bocca e quindi riconosciamo il sapore amaro una buona parte degli alfacidi si disperde comunque nel processo produttivo però quelli che vengono poi isomerizzati riescono poi a dare appunto il potere amaricante alla birra come dicevo prima non è possibile calcolare o meglio di solito non viene calcolato fatta un'analisi chimica di quanto umulone, quanti alfacidi ci sono nella birra per calcolare gli ibu ma si può fare appunto partendo dai dati che vengono forniti dal produttore di luppolo qui per esempio me ne sono presi alcuni questo appunto è quello della ricetta che dovrò fare che vi rivederò a fine video e questo è un luppolo in coni in questo caso allertao origine Germania ci sono i lotti eccetera ecco alfacidi 5,2 quindi c'è la percentuale di alfacido di alfacidi di questo luppolo questi sono luppoli che ho avanzato da una precedente cotta era un American Ipa e per esempio questo è un Cascade come alfacido mi riporta 5,9 oppure questo è un avanzino di Chinook alfacido 12,7 quindi vedete in base alla cultivar il valore cambia ma cambia anche in base al raccolto di quell'anno infatti su ogni busta di luppolo c'è l'anno del raccolto quanto alfacidi poi sono contenuti in questi luppoli e quindi sono molto utili questi valori per farsi poi una ricetta ovviamente molto precisa in base allo stile che scegliamo di andare a brassare legato al discorso degli ibu e degli alfacidi quindi legati al discorso dell'amaro mi viene in mente che a volte si legge anche beh forse sull'etichetta è un po' meno però sui vari blog che parlano di birra si parla di attenuazione e attenuazione apparente l'attenuazione va d'accordo con il discorso dell'amaro perché per attenuazione si intende praticamente il nostro lievito quanti zuccheri ha mangiato di conseguenza più il lievito mangerà gli zuccheri più produrrà alcol più diminuirà la densità della nostra birra fino a un certo punto questa ma sicuramente ci sarà meno zucchero quindi sarà meno dolce la nostra birra è un po' come funziona per il vino dei vini cosiddetti molto secchi ovviamente saranno meno dolci perché ci sarà meno fruttosio all'interno del prodotto finito rispetto al mosto all'inizio fermentazione quindi se leggiamo questa è una birra con attenuazione 80% questa è una birra che ha avuto un'attenuazione nel 60% ovviamente quella più attenuata 80% avrà meno zuccheri quindi sarà più amara rispetto a quella meno attenuata che quindi avrà più zuccheri residui e probabilmente quindi sarà più dolce stando in tema zuccheri il prossimo acronimo, la prossima sigla che capita di vedere è la gravity spesso divisa in original gravity e final gravity la gravity indica la densità del nostro mosto è misurabile proprio con un densimetro questo è un densimetro super economico che utilizzo quando faccio la poca birra che faccio in casa il densimetro come funziona ha un peso ed è tarata questa scala in modo tale da essere immerso in un cilindro che adesso non ho qui comunque viene immerso in un cilindro e in base alla densità è praticamente possibile leggere un valore sul livello del liquido più sarà denso quindi più farà fatica a affondare il nostro densimetro all'interno del liquido quindi rimarrà molto in alto mentre invece minore sarà la densità del liquido più potrà sprofondare e quindi leggeremo un valore più basso sul nostro densimetro perché è importante misurare la densità di un liquido del nostro mosto e perché la densità è direttamente correlata alla quantità di zuccheri quindi quando noi facciamo la nostra birra ci può interessare misurare la densità prima della fermentazione e quindi avere idea di quanti zuccheri ci sono prima che inizi a fermentare questa è la original gravity appunto e misurare anche la densità fine fermentazione la final gravity e così ci possiamo fare un'idea con un'apposita tabellina comunque con ci sono app tabelle, foglie excel programmi online tutto quello che volete si può calcolare quanti zuccheri sono stati mangiati sono stati metabolizzati dal nostro lievito di conseguenza quanto alcol sarà stato fatto nelle birre in bottiglia solitamente non è di solito indicata la gravity effettivamente è più un discorso forse che può interessare agli home brewer però visto che spesso di una bottiglia ci interessa sapere il grado alcolico beh quel valore di grado alcolico è calcolato anche in questo caso dalla densità e non è che viene fatta ad ogni produzione ad ogni cotta, ogni batch, ogni lotto viene fatta un'analisi chimica, spettroscopica o HPLC per calcolare quanto etanolo c'è in quel liquido semplicemente come per gli ebook si può ricavare da valori precedenti con delle apposite tabelle altra cosa che in effetti a volte vedo online però anche qui sempre solo sui blog o comunque articoli legati all'home brewing per la densità si parla anche a volte di grado plato la cui definizione me la sono insegnata per essere preciso è l'equivalente della densità misurata in percentuale peso su peso di una soluzione di saccarosio in acqua a livello del mare a temperatura ambiente ossia se trovo una definizione di una birra il cui mosto aveva 7 gradi plato allora la densità di quel mosto di quella birra era equivalente a una soluzione al 7% di saccarosio in acqua quindi 7 grammi di saccarosio in 100 grammi di soluzione totale anche qui chi ha fatto chimica ovviamente saprà bene come fare queste cose per chi non c'è solo passato vicino c'è sempre il rischio 7% vuol dire che sono 7 grammi di saccarosio non in 100 grammi di acqua ma in 100 grammi totali di soluzione perché se no se aggiungo 7 grammi di saccarosio a 100 grammi d'acqua ottengo 107 grammi di soluzione totale qui siamo in percentuale quindi fatto 100 il volume totale della soluzione finale non so per quale motivo è stato scelto il saccarosio non il glucosio il saccarosio è il dimero di appunto glucosio e fruttosio però questa è la definizione che viene data ufficialmente per indicare i gradi plato per unire i due discorsi dolce e amaro zuccheri e ibu uno dei valori che a volte leggo non spesso però a volte capita di trovare online soprattutto su forum di approfondimento è il rapporto BU-GU o praticamente il rapporto tra gli ibu e la original gravity quindi il rapporto tra l'amaro a scala ibu e la densità iniziale del mosto è un rapporto un po' più preciso rispetto a calcolare appunto solo gli ibu perché appunto tiene conto anche della densità quindi di quanti zuccheri e quindi come dicevo prima può essere più utile perché a differenza della misura del solo isomulone ci può dare un'idea di quanto sia questo rapportato agli zuccheri totali della nostra birra ho provato a fare un po' una panoramica su alcune delle sigle degli acronimi che mi capita di leggere e incontrare più spesso quando appunto sto leggendo qualcosa che abbia a che fare con la birra molti di questi effettivamente mi rendo conto possono interessare un po' più chi fa la birra o si diverte a fare la birra in casa, i cosiddetti homebrewers piuttosto che chi magari semplicemente è appassionato solo al lato drink di questo fantastico mondo se vi dovesse interessare il lato homebrewing, visto che io sono davvero un neofito da questo punto di vista vi consiglio un podcast che ascolto praticamente tutti i giorni perché è aggiornato quotidianamente che si chiama Car Brewing, la tua birra fatta in macchina il conduttore Daniele è molto molto competente e dà sempre un sacco di dritte e di informazioni utili a chi appunto si diverte o come me si sta un po' avvicinando il mondo per provare a sporcarsi un po' le mani e fare di persona le birre che tanto gli piacciono e può essere un ottimo spunto appunto per l'ombreoing ma anche in generale per il discorso birra devo dire, per esempio c'è una serie di puntate di una rubrica culinaria di Moreno che a me piace tantissimo e infatti qualcosa ho già anche provato a cucinare seguendo le sue ricette, quindi se vi può interessare ve lo consiglio perché secondo me è un contenuto molto molto valido spero di non aver lasciato indietro altre sigle o altre definizioni un po' strambe che di solito circolano nel mondo degli appassionati di birre se vi viene in mente qualcosa che ho dimenticato scrivetemi nei commenti che farò opportune aggiunte grazie per l'attenzione mi sono dimenticato di dare la soluzione del quiz e la sto registrando adesso in un altro video la birra in questione che stavo progettando di fare con gli ingredienti che ho mostrato era una blanche, quindi complimenti a chi ha azzeccato ed in effetti si era abbastanza semplice perché c'era frumento e c'era orzo quindi la soluzione appunto era quella, una blanche la soluzione appunto è un po' strambe